15 gennaio 1993. I carabinieri del Ross arrestano a Palermo nei pressi del motel Agip di via della regione siciliana il boss dei Bosto Tori Ina dopo 25 anni di latitanza. A dare il segnale agli uomini del comandante ultimo è Balduccio Di Maggio nascosto in un furgone fuori dalla casa di Riina. Il pentito è infatti fra i pochi dopo anni di latitanza in grado di riconoscerlo. Grazie a tutti.